E' molto intenso, veramente intenso, e così è che i miei cittadini hanno affrontato il impegno, hanno affrontato i processi di aiutati, e infatti, perché secondo me i fatti parlano più delle parole, e noi abbiamo riuscito alla città di aiutare i processi, i progetti, e quindi siamo andati a scuola.